Non ha ancora compiuto 20 anni, ma si è già giudicata il titolo di Miss Roma 2012. La vincitrice del concorso di bellezza a Capitolino, che porta dritto a Montecatini Terme per le finali nazionali di Miss Italia, è Sonia Di Palma. Un metro e 77, occhi azzurri e capelli biondi, ha conquistato la giuria presieduta da Carla Fracci. A votarla è stato anche Lino Banfi, che ha preso parte all'evento, svoltosi all'arancera di San Sisto di fronte Caracalla, insieme alla figlia Rosanna. Ospiti della serata, che ha visto in gara 20 giovani ragazze di Roma e provincia, anche Beppe Convertini. La giovane è bella.